Grazie Davanti con una volta Sutter che riesce a prendere la compagnia e essere... Ah, qui si vanno subito e farmi non è! E' protetto! E' nata come ieri! Magari! Si lo sa! Forse no, forse si, forse no! Sempre vi brutto! E qui lo chiesca! Via, 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 via! Ohhhhhhhh! prima delle esposte finali ma per cazzo con il 244 anche se fosse dentro una massa dentro ma non è il numero 310 palazza che si gira ma no non riuscivo a capire se aveva delle righe sul vetro poi più che delle righe sul vetro era l'interno veramente mi va a arrivare lungo non ha voluto togliere il piede Stefano Serini mi va a capottare proprio sull'esterno del terrapieno c'era da aspettare perché tra i due nessuno dei due è abituato a togliere il piede rossa però rossa però rossa rossa si va alla ripartenza stop 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 no è fun che porca per fortuna non in piena velocità ma una vettura che si va a girare rossa 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 vabbè direi capottoni bisogna solo seguirlo guardarlo da lontano rossa no 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 tutti qui sono la prima fila vediamo la staccatona che tegola calmi 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 è arrivato il gruppissimo e sono toccati proprio passato alla mia postazione